Salve ragazzi e bentornati o benvenuti su Football Manager Italia Siamo qui di nuovo su FIFA 21 per iniziare una carriera con l'Empoli Questa però non sarà una classica carriera su FIFA Ma tendenzialmente utilizzeremo questo gioco come se fosse Football Manager Quindi faremo gli acquisti, faremo le cessioni e ci occuperemo del mercato Gestiremo lo staff, in questo caso staff osservatori e osservatori per i giovani della primavera Appunto gestiremo la primavera, gli allenamenti e poi andremo a vedere le partite ma cliccando simula partita Quindi andremo a vedere le partite in 2D Proprio come se giocassimo a un vecchio Football Manager Dove appunto c'erano solamente i famosi pallini, solamente il 2D e non il nuovo, più o meno nuovo 3D Che è presente da un bel po' di Football Manager Quindi utilizzeremo un po' questo gioco come se fosse FM Penso che sia un'idea carina, mi diverte giocare a FIFA Volevo fare una carriera e quindi ho detto perché non portarla sul canale E gestirla in questo modo, giusto per non fare le classiche cose Anche per andare abbastanza avanti velocemente Perché comunque vedendo solamente la simulazione possiamo andare veloci E ovviamente non vi mostrerò tutte le partite Siamo con l'Empoli e giustamente mi direte Ma Mike non c'è la Serie B su FIFA 21 Avete ragione e io che cosa ho fatto? Per utilizzare l'Empoli ho praticamente trasportato tutte le squadre di Serie A Nella Liga Spagnola e ho ricreato più o meno la Serie B appunto nella Serie B Spagnola Portando tutte le squadre di Serie B italiane che si ritrovavano nel resto del mondo Nella Serie B Spagnola e togliendo le squadre più scarse Quindi c'è una difficoltà maggiore perché ho tendenzialmente trattenuto i team più importanti E più difficili da battere proprio nella Liga Santander E comunque come potete ben vedere c'è il Chievo Verona, c'è l'Empoli, c'è il Brescia, c'è il Monza C'è il Lecce che mi pare che ho già detto C'è la SPAL quindi ci sono tutte le squadre che si trovano nel resto del mondo E poi le diciamo più forti squadre della Liga Smart Bank Spagnola Quindi penso che sia un'idea carina ripeto Mi divertiva giocare in Serie B con una squadra italiana Anche se proprio la Serie B non è presente Non mi sono rimesso ovviamente a ricreare squadre della Serie B Ma tendenzialmente utilizzeremo quelle che ci sono nel gioco E poi ogni tanto andremo anche a sfidare qualche squadra spagnola Che chissà potrebbe anche arrivare in Serie A Tendenzialmente il primo anno ragazzi andremo a vedere Penso quasi tutte le partite con le squadre italiane Un po' meno quelle con le squadre spagnole Se mai riuscissimo ad arrivare fin da subito in Serie A Ovviamente le partite con le squadre spagnole ve le esalto Diciamo che servono solamente a fare numero Per quanto riguarda le finanze abbiamo 4.600.000 euro come budget trasferimenti E 41.000 euro per budget stipendi Anche se ci sono stati già dei ritocchini Visto che ho rinnovato diversi contratti Sia per i giocatori in scadenza sia per i giocatori che avevano le clausole Di recessione Quindi insomma le ho volute togliere Giusto per non perdere dei possibili buoni giocatori A cifre veramente ridicole Per quanto riguarda la primavera Non c'è nessuno di Diciamo interessante L'unico Forse è questo bancole Che ha un discreto potenziale 64.90 Però insomma niente di eclatante Sicuramente da non portare per i momenti prima squadra Anche perché non possiamo Perché ha 15 anni Poi ovviamente andremo a vedere successivamente lo staff primavera Abbiamo già questo Aleiandro Crespo che non è male Vediamo anche in base ai soldi che ci restano Sicuramente cercheremo un talentino O in Spagna Visto che lui è spagnolo O comunque in Italia E' spagnolo anche perché appunto siamo in Spagna Lo stesso vale per gli osservatori Direi che per il momento Penso che sia giusto vedere la prima squadra Gli osservatori pure sicuramente avremo 3-4 elementi Abbiamo 3 elementi 2 abbastanza validi Uno un poco meno Però poi andremo a gestire le istruzioni Avendo pochissimi soldi Sicuramente andremo a cercare Dei giocatori scadenza Per risparmiare Perché no? Potremo anche iniziare a prendere Qualcuno a parametro 0 Ma diciamo che non troveremo Dei grandissimi giocatori Massimo dei 69 E quindi non faremo tantissimo affidamento Almeno nel primo anno Ai parametri 0 Ne prenderemo 1-2 massimo Dove effettivamente avremo un po' di difficoltà Ci ho ripensato un attimo E ho subito voluto mettere le istruzioni Per gli osservatori E ho messo promettente Diciamo in scadenza Da 16-25 anni Campione Anche se per il primo anno Non potremo prendere nessuno Da queste istruzioni Però l'ho comunque voluto mettere Sempre in scadenza 16-35 E da prima squadra 16-35 Sempre in scadenza Poi Le andranno a osservare In Spagna In Inghilterra E in Italia Poi penserò un po' Se assumere altri Oppure Rimanere così Per quanto riguarda Semmai quello primavera Andiamola a fare Se no poi mi dimentico Anche in questo caso Semmai facciamolo Segui Facciamo seguire un campione in Spagna E spagnolo Semmai poi andremo a prendere un italiano E andrà a cercare un elemento italiano Certo 324.000 euro Potrebbero essere tanti Visto che abbiamo pochissimi soldi Facciamo per il momento Solamente 6 mesi Facciamo un po' i dirchi E vediamo in questi 6 mesi Spagna Cosa riusciamo a trovare Speriamo Qualche giovinastro Veramente molto Molto interessante Ritornando a noi Ritornando Alla prima squadra Partiamo ovviamente Da Brignoli Che sarà il titolo Varissimo per quest'anno In scadenza Io ho rinnovato il contratto Ho provato ovviamente A rinnovare i contratti A ribasso Cercando di risparmiare Qualcosina E per fortuna ci sono riuscito Comunque Brignoli Per quest'anno Sarà il titolare inamovibile Forse anche per l'anno prossimo E comunque un buon portiere Che cresce Non diventerà mai Buffon Però Ci può stare E Furlan invece Vorrei cederlo Non è che ci facciamo Più di tanto Però insomma Anche 240.000 euro Potrebbero essere utili E Possiamo qui Effettivamente Prendere un portiere In scadenza Ovviamente E Diciamo Scarso Ma che ha Un ottimo potenziale E che potrebbe appunto Fra qualche anno Se non addirittura L'anno prossimo Sostituire Brignoli O comunque Un giocatore che possa diventare Un'importante Plus Valenza Sulla sinistra abbiamo Due discreti giocatori Terzic Terzic e Parisi Ma se vogliamo arrivare In serie A O comunque Se non vogliamo Essere cacciati Fin da subito Dobbiamo effettivamente Migliorare La fascia sinistra Io direi Che potremmo Effettivamente Non dico Vendere uno dei due Perché potrebbero crescere Ma mandare In prestito Parisi E tenerci Terzic Come alternativa Come difensori centrali Abbiamo Romagnoli Nicolau Pirrello E Casale Allora Casale Per quanto sia Relativamente giovane 22 anni E può crescere Io lo vorrei vendere Perché si cresce Ma non è che diventa Romagnoli Non so quanto Effettivamente ci potremmo fare Fra qualche anno Quindi meglio Pochi ma buoni I soldi Quindi cerchiamo Di venderlo E di farci qualcosa Pirrello Come alternativa Va bene Nicolau Come alternativa Sbarra titolare Va più che bene Romagnoli Non lo vorrei cedere Perché è il difensore Nostro più forte E per quanto so Che ha 30 anni Potrebbe un po' calare Però io E anche il capitano Qui Quindi io Quest'anno Lo vorrei tenere E vorrei però Affiancargli O Nicolau O se ci riesco Un difensore centrale Ancora più forte Sempre su un 71 Un 72 Semmai anche giovane Sperando in una crescita Quindi Casale Lo vendiamo E lo dobbiamo assolutamente Sostituire Così come Parisi Ma nel caso di Parisi E anche tre anni Più giovane Lo manderemo Appunto in prestito Sulla destra Abbiamo Fiammozzi Che rimarrà Assolutamente Sarà il nostro titolare Un 70 27 anni Sarebbe veramente Brutto Svenderli tutti Quindi ci sta Zappella Io lo venderei Un 54 22 anni Veramente scandaloso Non cresce più di tanto Quindi io lo cederei E qui prenderei Sulla sinistra Prenderei anche Un giocatore esperto Anche vecchiotto Che possa fare La differenza Sulla destra Invece prenderei Un giovinastro Che possa crescere A fianco a Fiammozzi E che fra qualche anno Lo possa sostituire Senza troppi problemi Quindi tendenzialmente Ci serve per il momento Un giocatore Per ogni reparto Un portiere Un terzino sinistro Un terzino destro E un difensore centrale Ma meglio così Sapete che mi diverto A fare mercato Quindi Solo questo Aspettavo Il nostro modulo Come avete già visto Sarà il 4 4-2 Di scuola Giampaolo Anche perché L'Empoli Non ha Mediani Scusate Non ha esterni Quindi Vorrei mantenere L'ossatura Insomma Lo scheletro Di questa squadra Io in game Non lo utilizzo tanto Questo 4-4-2 Sono più su 4-3-3 Che utilizzavo Molto spesso A PES Però ci possiamo Adattare Anche perché Non giocherò io Quindi va bene così Comunque A centrocampo Abbiamo Stulaccio Che va bene 25 anni 70 Può crescere ancora Ed è comunque Uno dei più forti Elementi che abbiamo Quindi rimane Damiani Che venderei Stesso discorso 22 anni Non è vecchio Ma è un 61 Quindi Va venduto Avesse avuto 17 anni 61 Ci poteva anche stare Ma 22 anni 61 No Va venduto Ci possiamo fare 700.000 euro Che adesso Non ci farebbero Affatto schifo Quindi proviamo A cederlo Poi abbiamo Zurkowski Anche perché A centrocampo Abbiamo tanti elementi Validi E di prospettiva Tipo Zurkowski Tipo As Tipo Ricci Che in teoria Dovremmo anche Mandare in prestito Se vogliamo Farlo crescere E anche Bandinelli Che comunque Schifo non fa Abbiamo tre titolari Stulac Zurkowski As Abbiamo due Alternative Comunque valide Che Ricci E Bandinelli Quindi insomma Damiani Se ne può anche Andare un po' A quel paese Siamo cinque Per sei posti Però insomma Non penso Che ci serva Un cesto elemento Considerando Che ci saranno Solo le partite Sere B Ci pensiamo Qui possiamo Effettivamente Prendere un parametro Zero Un tappabuchi Giusto per E potremmo anche Mandare in prestito Ricci Per farlo crescere Perché tanto qui Difficilmente Troverà la La titolarità Quindi Sì Forse un cc Ci può servire Io me lo segno Giusto ripeto Per fare Da tappabuchi Perché comunque Giochiamo con il centrocampo A tre Per quanto riguarda La tre quarti Abbiamo Bairami Che sicuramente È un buon giocatore Però Un sessantasei Sinceramente Anche qui Se riuscissimo A trovare Un elemento Un po' Più forte Sarei ben più felice Bairami Potrebbe essere La prima alternativa Ovviamente Come sempre Fatemi sapere Anche la vostra Intanto mi sono segnato Che ci serve Un cc Cambiaso Lo vediamo A vent'anni Sessantuno Ok che potrebbe Crescere Ma non ci serve È un esterno Quindi Potremmo trasformare Lo terzino e sinistro Ma già ne abbiamo due Io penso di venderlo Invece Olivieri Pure Non ci serve È un esterno Che può diventare Un atti Può un po' Crescere Però insomma Niente di Eclatante Potremmo ripeto Effettivamente Mandarlo in prestito Ma noi soldi Ci servono subito Se vogliamo Costruire una buona squadra Perché ci servono Almeno Sei o sette Giocatori E sei o sette giocatori Con quattro milioni Non si fanno Soprattutto se vogliamo Prendere Degli elementi Non sotto Il sessanta Sessantacinque Settanta E quindi Vanno venduti Questi elementi Di troppo Tanto sicuramente Non è che li riusciremo A vendere tutti Cerchiamo di fare Più soldi possibili In attacco Abbiamo Quattro elementi Che non sono Neanche male Abbiamo Matos Che è sì Un esterno destro Ma che lo sto Già alleando Ho già fatto il piano Di crescita A tutti E anche A quelli che Vorrei vendere Perché non so Ovviamente Se Effettivamente Riusciremo a vendere Comunque Matos Lo sto Allenando Da T Perché lo possiamo Effettivamente Sfruttare Come attaccante Per diventare ATT Vuole tipo Un anno Quindi Mettiamolo a T Cambiamo un po' Il modulo E Giochiamo Appunto Quasi con una Seconda punta E Lo vorrei tenere Perché comunque A 27 anni 70 Ci può stare Moreo Lo stesso A 27 anni 70 Ci può stare Mancuso Lo stesso A 28 anni 70 Ci può stare Chi cedere è L'amantia Che è il più vecchio 29 anni E anche il più scarso A 69 Come l'ultima alternativa Ci potrebbe anche stare Però ci potremmo fare Un milione e mezzo Potremmo risparmiare 6.000 euro di ingaggio E soprattutto potremmo Prendere un attaccante Giovane Che può crescere E può diventare Il nostro futuro titolare Quindi tendenzialmente Ci serve un giocatore Per ogni reparto Un portiere Un terzino sinistro Un terzino destro Un difensore centrale Un COC Un ATT E un CC In alcuni casi Ci servono Giovani E di prospettiva In altri Invece Come ad esempio Il terzino sinistro O il COC Ci servono Degli elementi Già pronti E che già Spaccano il mondo E che ci possono Già far arrivare Almeno si spera In serie A Detto questo Io spero Che questa idea Vi sia piaciuta Ovviamente Nel prossimo episodio Andremo a vedere Il mercato E non so Se è tutto O comunque In buona parte E la primavera Tendenzialmente L'abbiamo già vista Non c'è nessuno Di veramente interessante Se non il 15enne Ma dobbiamo vedere Come cresce E quindi niente ragazzi Detto questo Io spero Che questa idea E questo video Vi siano piaciuti E come sempre C'è il like Commentate Iscrivetevi Abbonatevi Fate tutto ciò Che vi pare Sempre grazie Per la visione E come sempre Un saluto Da Micro 94 Ovviamente Da Football Manager Italia Ciao ragazzi